I volontari della misericordia di Magione, accompagnati dal vice governatore Fabrizio Lugni e responsabile del settore protezione civile Filippo Rigucci, ha reso omaggio al corpo dei vigili del fuoco colpito dal lutto per la perdita di Antonio Candido, Marco Triccas e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco morti nello scoppio della cascina di Guarniento ad Alessandria. E' in questo spirito tuttavia il consentimento di solitaria e affettuosa partecipazione che esprimiamo ai familiari e ai parenti i sensi del nostro profondo ordine. Grazie. Accompagnati dal sindaco Giacomo Chiudini ha dopposto una corona al monumento ai caduti del comando provinciale di Perugia, portando la propria vicinanza e cordoglio per la perdita. Presenti il funzionario dei vigili del fuoco di Perugia, Maurizio Fattorini e il comandante Michele Zappia.